Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Abella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook, Mercedes-Benz Dug Auto. L'Avellino Rocchetta può essere il vero volano di crescita turistica dell'Alta Irpinia. Ci credono in molti non soltanto il vicepresidente dell'Aggiunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, che lo scorso venerdì ha incontrato i sindaci Altirpini a Leone. Tra questi c'era il primo cittadino di Conza della Campania, Vito Cappiello, che si dice entusiasta dell'iniziativa. Io credo che questa sia una grande opportunità che dobbiamo cogliere e soprattutto cercare di non farci sfuggire. Prima perché, secondo me, dal punto di vista storico, questa è una tratta che va mantenuta, come ha già dichiarato la sola intendenza, anche se fosse solo per fini turistici, ma dobbiamo fare in modo che poi questa abbia un supporto anche nella logica della sostenibilità. Per cui il richiamo che il presidente Bonavitacola faceva ai comuni è quello di proporre progetti sempre ampi sul territorio, ma soprattutto che siano a 360 gradi, per cui non solo legati a singoli eventi o a singole manifestazioni, ma che sia strutturalmente a servizio di un sistema turistico più efficiente e più globale. È importante che venga fatto un discorso un po' più allargato e complessivo, soprattutto per quanto riguarda anche la gestione stessa degli eventi. Per cui dobbiamo andare dall'evento Club, che sarebbe lo Sponsor Festival, già protagonista l'anno scorso, e che so, alla vendemmia, alla ricerca di siti turistici archeologici tipo Conza, io mi sono candidato a questo, oppure turismo che va per quanto riguarda l'ecosostenibilità e l'ambiente, e anche in questo mi sono proposto perché abbiamo l'Ose WWF, potrebbe essere una delle offerte che abbinata alla ferrovia dà grandi risultati.